Salaamu alaikum, ringrazio tutti, il mio nome è Nabilia Art, sono da Sardinia, Italia, in Casablanca per il primo giorno, per i freddi, e ho venuto a Casablanca per il mio progetto di arte, ma non ho parlato inglese molto bene, perché ho parlato italiano. Di origini new yorkesi, sono stata ispirata da lui per questo tipo di tecnica pittorica, ho questo progetto di mio sogno che si è finalmente realizzato, di arrivare a Casablanca per la prima volta, e sono contenta di questa accoglienza che mi è stata data, di questa opportunità. Ringrazio tutti e adesso vi faccio parlare con il mio manager, il Galì. Salamu alaikum, ho conosco, ho conosco, ho conosco, ho sapato la scèdena per 5 anni, avevo un gioco, una zona del mondo un giorno di arrivato alla linguagrazione dove voleva dare la scena e ho detto all cameo a volte il mondo perché mi accetta e ho bisogno di fare un rec Natale e ho amato abbiamo caro un po' e non si veni a cittadinanza un po' il mio amato Non si trattava un batallon non c'è l'abbiamo accanto per ora guardate qui nel bambino ma questa è una gara l'alba siccome non c'è il bambino avevo anche la Bambina E allora ho attraverso nella lingua e ho fatto tutto e ho detto delle personaggi di la bambina Voglio lui farmi una lettera che mi ha risposto come per la bambina la mia vita è un'imagine sono stati e ho capito il risultato e riusciti alla file a me ha detto che ho un'imagine e ho deciso venire all'imagine e non è una cosa e non c'è problema per me c'è mai la mia vita per me sapere un program di come si vuoi fare un po' di islam e realizzare Come se vuoi fare un'islamo? Per te, se vuoi entrare in islamo, è possibile prendere questo figlio è possibile prendere questo figlio? non è obbligato è obbligato un pochino ma per te rispetto per l'Islam? ho la rispetto per la dress per la dress per la cultura per la religione perché ho studiato il corano tre o quattro anni e ho studiato in Italia questa religione è una religione ha detto che è 4 anni e ho studiato e ho studiato e ho studiato e ho studiato ora ho studiato questo progetto per per entrare in l'Islam perché penso questa religione è la prima religione e la altra religione perché è molto bello per una buona energia per avere una buona terra per una buona per la halbe e ho studiato sempre a una buona per una buona per farre scusami ma non ho parlato l'arabico molto bene, non ho parlato l'anglico molto bene, ho parlato l'italiano e ora voglio parlare l'arabico in argomento, voglio ripetare l'arabico semplice per questo mio decisione per l'islamico E seruditi a cui vedo la quarta va a incominciare l'islamo Ho i giorni in qualche tempo agli zade la quarta valore Ho il quarta valore è sottile, ho parlato l'islamo e si un'amma stato a farlo e se ci sono cose che sono sempre molto e ci sono i nostri amici e 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 salamu alaikum